Salve a tutti, sono orgoglioso di giocare per l'Italia e sono contento di questo oro, sicuramente non ce lo aspettavamo né io né il mio compagno, è stata un'ottima settimana, abbiamo giocato un buon tennis e siamo riusciti a portarlo a casa, siamo molto contenti. Sì, non me lo aspettavo sicuramente in finale dove c'era un grandissimo giocatore come Ollier perché non me la sarei inaspettata di vincere e io credo che sia stata la miglior settimana della mia vita perché vincere la medaglia d'oro è proprio top di gamma. Poi ringrazio il mio coach Martín Pereira e il mio compagno dell'etico Macchino Todeschi che mi hanno aiutato ad arrivare qui e grazie a tutti.